Sconfitta per la giovane Cuba in questi mondiali? Sì, dove è sconfiato? Per questo mondiale, che è la tua impressione? No, penso che il nostro equipe, come ho detto anteriormente, è un equipe molto joven e deve andare conoscendo, da 12 giugatori solo una partecipata in un mondiale, la prima volta che partecipano in un mondiale di maggiori. Però credo che tutti conoscono tutto il momento che passiamo per arrivare qui. Abbiamo avuto un solo allenamento e i ragazzi oggi sono un po' desconcentrati. Io credo a loro che avranno un migliore partito. Cosa bisogna migliorare dopo questa prima gara, in questa prima fase? Che sono le azioni per migliorare il gioco dopo questo primo partito? Deve migliorare tutto e più la confianza. È importante migliorare tutto. È importante migliorare tutto questo partito. Il ritardo nell'arrivo con l'aereo a Bari ha influito su questa prima gara? Il ritardo con l'avion ha influito sul risultato di questo partito? Sì, credo che ha influito. Però noi stiamo a sovrapposermi a questo. Ma domani faremo un grande partito contro Puerto Rico. Sperano di essere meglio domani perché... In Italia? Allora, sperano sicuramente di fare meglio domani. Ha influito però non si stanno lasciando abbattere. Invece per quanto riguarda le impressioni del coach è quello che si tratta comunque di una squadra molto giovane e quindi stanno cercando di migliorare assolutamente in tutto dal punto di vista sportivo, nonostante gli imprevisti che hanno avuto. Grazie.